Albino mozione di sfiducia delle minoranze nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici per dei commenti postati su facebook mozione respinta dalla maggioranza lavoro in corso a Schilpario si realizza una struttura che ospiterà un ristoro al campo scuola di sci si interviene sulla copertura del palaghiaccio e a dicembre si scia sulla pista di fondo cresce il numero degli infortuni sul lavoro a domenica 9 ottobre a Sarnico una manifestazione in occasione della giornata nazionale delle vittime del lavoro buonasera ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 ieri sera in consiglio comunale ad Albino è stata discusa una mozione di sfiducia presentata dalle minoranze nei confronti dell'assessore lavori pubblici cristiano cultura la richiesta di togliere le deleghe all'assessore non è stata accolta dal sindaco fabio terzi e la mozione è stata respinta con i voti della maggioranza vediamo il servizio di Nicola Androletti ecco per quali motivi avete presentato questa mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici cultura noi abbiamo presentato questa mozione con l'intento di denunciare di fatto un atteggiamento dell'assessore ai lavori pubblici del tutto indegno nei confronti di un cittadino di Albino e cioè ha denigrato e di ripeso di fatto questo cittadino sui social network facebook e noi abbiamo voluto denunciare questo fatto denunciandolo pubblicamente in consiglio comunale ovvero non è accettabile che un assessore ai lavori pubblici di un comune di 18 mila abitanti possa comportarsi in questo modo nei confronti di un suo cittadino essendo un assessore dovrebbe rappresentare tutti anche chi non la pensa politicamente come lui purtroppo l'assessore dobbiamo riconoscere che non ha dato nessun tipo di pentimento non ha portato scuse pubbliche addirittura in commissione territorio del 22 settembre ha negato di aver scritto determinate cose quindi insomma ha fatto davvero una pessima figura e l'altro motivo per cui abbiamo voluto presentare questa mozione è dire che in questo momento ad Albino ci sono tante opere pubbliche che possono essere fatte grazie allo sblocca patto del governo Renzi e queste opere pubbliche vengono fatte da operatori che fanno esattamente quello che vogliono cioè fanno varianti in corso d'opera senza che nessuno le ha chieste poi saltano fuori gli abusi saltano fuori le irregolarità insomma manca una direzione di lavoro e una vigilanza su questi cantieri Assessore come risponde ai rilievi della minoranza in merito alla situazione di alcuni cantieri sul comune di Albino? Rispetto a quanto discusso ieri sera in consiglio comunale mi ritengo stupito di come le minoranze abbiano fatto a gara a mettermi in bocca frasi che non ho detto qualcuno voleva a tutti i costi incolparmi degli imprevisti che hanno riguardato qualche opera pubblica altri puntavano il dito più verso l'impresa a un certo punto non si è capito quale fosse la fine e lo scopo della loro mozione qualche certo è che come maggioranza abbiamo dato a loro tutte le risposte e forse quel che resta di tutto questo sterile can can è il fatto che siamo una giunta compatta lavoriamo bene e in fatto di lavori pubblici in soli due anni abbiamo già realizzato molto più di quanto la precedente amministrazione ha fatto in cinque anni l'attività di controllo di cui hanno insinuato la mancanza quello che io secondo loro dovrei fare questa attività di controllo c'è e ne sono la dimostrazione di tutti i provvedimenti che il mio ufficio di lavori pubblici ha assunto in questi ultimi mesi a fronte di in effetti qualche irregolarità rilevata nell'esecuzione di alcune opere è inevitabile che con otto cantieri aperti quasi contemporaneamente si possa incorrere in qualche problema ma è altrettanto ovvio che chi non fa nulla non rischia nulla come si dice hanno anche un po' una memoria corta dal mio punto di vista la precedente amministrazione ha dovuto affrontare non pochi problemi durante il cantiere del nuovo ponte di Comenduno problemi che poi abbiamo risolto noi una volta insediati ma nessuno si è mai sognato per questo di chiedere le dimissioni dell'allora sindaco assessore ai lavori pubblici Carrara ritengo quindi che la mozione sia stata strumentale hanno tentato di metterci in cattiva luce visto che probabilmente il fatto che siamo una giunta che sta facendo molto li infastidisce e sulla questione facebook su facebook francamente non ho nulla da dire né da rimproverarmi sul commento postato nel gruppo anche perché ritengo di non aver offeso nessuno è stato comunque divertente vedere le interpretazioni che le minoranze hanno dato al post giungendo a conclusione a cui non ho mai pensato nemmeno io e ora ci spostiamo in Valle di Scalve in particolare a Schilpario dove prima dell'arrivo dell'inverno si stanno ultimando alcune opere che potenzeranno l'offerta della località turistica Sindaco Agoni qui a Schilpario ci sono alcune novità che riguardano gli impianti sì per quanto concerne il discorso della discesa abbiamo fatto abbiamo praticamente una specie di contratto con dei giovani che gestiranno lo Schilif per sei anni e siamo riusciti a concordare che realizzino in fondo una struttura che potete vedere sarà un barettino dotato di tutti i servizi indispensabili a supporto dello Schilif oltre a questo la novità per la prossima stagione invernale è che il comune gli ha fornito un impianto un cannone una pompa e quindi con l'acquisizione da parte loro di altri di altri mezzi mi sembra che abbiamo comprato un paio di cannoni anche loro saremo in grado ai primi freddi di fare la neve e poi la novità anche di quest'anno è che stanno appunto mettendo in questi giorni un servizio di illuminazione perché in certi periodi dell'anno vogliono far funzionare lo Schilif anche nelle ore notturne quindi diciamo che c'è un potenziamento della località per quanto riguarda la stagione invernale sì e noi quest'anno memori delle stagioni passate puntiamo a partire ai primi freddi sia con l'impianto dello sci alpino sia con la pista di sci di fondo all'innevamento quindi stiamo facendo i salti mortali per avere la garanzia che se anche non ci fosse la neve Schilpario quest'anno deve partire insomma vogliamo che anche la stagione invernale torni a farla da protagonista come in passato quindi riassumiamo qui in questo punto ci saranno dei cannoni l'illuminazione e il bar che si sta realizzando e per quanto riguarda invece lo sci di fondo per quanto concerne lo sci di fondo nel mese di dicembre se non ci fosse neve nelle altre località Schilpario garantirà l'apertura della pista di sci di fondo ieri abbiamo avuto un incontro a Clusone col presidente della Fisi di Bergamo anche la Fisi dovrebbe dare un contributo per fare in modo che tutti gli sci club della zona portino in modo gratuito a sciare i loro ragazzi nel mese di dicembre a Schilpario e c'è un grosso appuntamento per il 3 di dicembre dagli sci club che dovrebbero trovarsi qua a Schilpario a fare una specie di festa tra di loro Agoni poi c'è anche un altro investimento che riguarda le attrezzature invernali in particolare il palazzetto del ghiaccio alle sue spalle più che le attrezzature riguarda proprio la struttura la struttura in quanto le normative per quanto concerne i carichi della struttura sono cambiate e quindi abbiamo avuto la fortuna ma anche l'abilità di ottenere 600.000 euro a fondo perduto sulla legge dei 6.000 campanili e questo ci consente appunto di mettere a norma questa importante struttura i lavori sono iniziati e verranno ultimati appunto per il primo di dicembre dove pensiamo appunto di essere pronti invece per partire con la stagione invernale quindi vi state preparando per la stagione e pensate sempre a un turismo rivolto alle famiglie Sì puntiamo soprattutto a un turismo familiare siamo consapevoli che la nostra località non può competere con altre però abbiamo una pista di fondo che penso che sia tra le migliori in Italia e garantendo appunto l'innevamento sia sulla pista di fondo sia sul campo scuola della pista di discesa pensiamo che come località possiamo aspirare a un turismo di questo tipo appunto fondo discesa e poi anche pattinaggio su viaggio adesso invece andiamo all'overe dove giovedì 6 ottobre prende il via l'ottava edizione di sapori d'ottobre l'appuntamento con i piatti più gustosi e prelibati dell'autunno ecco qui all'overe si sta già montando la struttura per sapori di ottobre ma innanzitutto che cos'è sapori di ottobre a sapori d'ottobre è una manifestazione enogastronomica diciamo di spicco della proloco di l'overe in questo periodo un po' strano per le feste infatti siamo ai primi di ottobre e si fa della semplicemente della buona cucina abbiamo dei cuochi d'eccezione di l'overe abbiamo diversi chef abbiamo lo chef spelgatti abbiamo giorgio beltrami che ci farà la sua splendida tagliatelle all'oscarino di l'overe con il persico e salmerino nel nostro lago lo chef ci proporrà dei piatti eccezionali sabato sera e poi i piatti un po' della tradizione abbiamo dall'arrosto con la polenta e casoncelli alla manzo alla monda di l'overe ecco tutti dei buonissimi piatti in questo inizio d'autunno all'insegna del bel tempo bellissimo tempo speriamo almeno e il programma delle serate iniziamo con l'apertura dello stand ogni sera da giovedì a domenica a partire dalle 19 poi venerdì abbiamo serata giovane con i nostri amici dj sabato abbiamo un classico karaoke in compagnia e domenica pranzo abbiamo spiedo di bruno con la polenta e sera ancora serata in compagnia di chiusura sabato e domenica nel pomeriggio ci trovate se volete fare una passeggiata sul porto con le castagne per informazione potete visitare il nostro sito Nuova Proloco Lovere oppure sempre la pagina facebook a Nuova Proloco Lovere e niente vi aspettiamo sul lungolago di Lovere tra le piscine e il parco Fanti d'Italia se volete fare due passi e fermarvi e a mangiare qualcosa Altro salto geografico questa volta andiamo a Sarnico dove domenica è in programma una manifestazione organizzata in occasione della giornata nazionale delle vittime del lavoro Il 9 ottobre si celebra la 66esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ne vogliamo parlare con Luigi Feliciani che è il presidente dell'ANMIL di Bergamo partiamo anzitutto dal senso di questa giornata il senso è stata ormai fatta ormai siamo addirittura la 66esima l'associazione ha ben 73 anni perché si è voluto veramente ricordare una giornata in tutta Italia e dal 2003 è stata istituzionalizzata nella seconda giornata di ottobre in tutta Italia si celebra questa giornata perché per ricordare che purtroppo di lavoro si può anche morire e questo è voler far riflettere le associazioni le autorità presenti e tutte le parti sociali per poter intervenire ed essere sempre presenti per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori dove verrà celebrata questa giornata in provincia di Bergamo quest'anno la giornata si svolgerà in quel disarnico ci si troverà tanto per dare due dettagli del programma alle ore 9 ci si ritrova presso la la chiesa parrocchiale di Sarnico per chi vuole raggiungerci si informi presso i nostri delegati ci sono servizi anche dei pullman per raggiungere la giornata alle 10 e mezza poi ci sarà la cerimonia civile presso l'auditorium del comune messo a disposizione dal comune di Sarnico dove però veramente il discorso la cerimonia civile dove illustreremo tutti i dati che purtroppo dopo 5 anni di indemnizione quest'anno cominciano a risalire interverranno anche le autorità che sono i nostri politici locali tutte le parti sociali perché siamo convinti che per vincere questa battaglia sulla sicurezza di lavoro tutti devono fare la loro parte ecco vorrei soffermarmi proprio sui dati facendo magari un'analisi un po' più approfondita ha detto che purtroppo i dati non sono confortanti adesso non entriamo nello specifico però sappiamo già per esempio che ci sono già rispetto all'anno scorso 6.500 infortuni in più a livello nazionale che vuol dire un aumento dell'1,4 e la cosa invece che veramente cira trista ancora e quindi anche se abbiamo fatto ma dovremmo fare ancora di più che l'aumento delle morti sul lavoro sono addirittura dell'8,4% sui dati nazionali anche la nostra provincia avete visto notizie di questi giorni sta pagando a caro prezzo questo fenomeno sia degli infortuni mortali sia degli infortuni infatti in Lombardia dopo Milano e con Brescia abbiamo questa classifica che purtroppo ci vede ai primi posti sia a livello lombardo che a livello nazionale ci fermiamo per una breve interruzione tra poco grazie a tutti Grazie a tutti. Abbiamo fatto ieri un protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale, che sarà a breve sottoscritto da Regione, Anci, Lombardia, Città metropolitana, Capoluoghi di provincia, Comuni aderenti ed ARPA. In sostanza si tratta di uno schema che le amministrazioni potranno seguire durante i periodi critici. Ha per ora un carattere sperimentale ed è valido fino all'aprile 2017. Il protocollo prevede azioni commisurate al grado di inquinamento. Nei comuni aderenti le prime misure di contenimento scatteranno al raggiungimento dei 7 giorni consecutivi di supero della soglia di 50 microgrammi al metro cubo di polveri sottili. Il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 0, 1 e 2 sarà esteso anche alle giornate di sabato-domenica e ai giorni festivi. E per la prima volta anche i veicoli diesel Euro 3 dovranno fermarsi. Nessun blocco totale ma motori spenti dalle 9 alle 17 e per i veicoli commerciali dalle 8 e 30 alle 9 e 30. Le misure si faranno ancora più rigide al superamento del valore di 70 microgrammi di polveri sottili per 7 giorni consecutivi. In questo caso i diesel Euro 3 dovranno stare fermi già dalle 7 e 30 e fino alle 19 e 30. Sono previste restrizioni anche per le stufe a pellet. L'associazione volontario ospedalieri AVO propone una sottoscrizione a premi con la quale raccoglie risorse per sostenere il nuovo corso di formazione e inoltre si cercano nuovi volontari. L'AVO a ottobre festeggia una giornata importante, giusto? Sì, come tutti gli anni il 24 di ottobre è la festa nazionale dei volontari ospedalieri, associazione volontario ospedalieri. Per convenzione si celebra la domenica più vicina alla data, quindi sarà il 23 di ottobre. Il 23 di ottobre l'associazione volontario ospedalieri metterà un banchetto, un gazebo in Piazza Uccelli con il fine di sensibilizzare la popolazione affinché si faccia memoria di quello che fa l'AVO. Abbiamo un grande bisogno di nuovi volontari e siccome stiamo organizzando un corso di formazione e di aggiornamento a fine aprile e maggio 2017, attraverso una raccolta fondi, attraverso una sottoscrizione, finanziamo questo corso. Questa idea che è venuta al Consiglio Direttivo ha scatenato una gara di solidarietà molto importante. Più di 80 commercianti e imprenditori di Clusone dell'Alto Piano hanno donato prodotti o voucher per 171 regali. Di questi 80 ce ne sono 65 clusonesi e 15 di fuori Clusone. Certo, precisiamo anche che si chiama volontari ospedalieri di Clusone, una buona metà vengono dall'Altopiano, vengono dalla Valle del Riso, vengono dall'Altipiano di Parre, vengono dalla Val Bondione e alcuni da Clusone. L'età media è un po' alta e perdiamo volontari, quindi abbiamo bisogno di sostituire le persone che vanno in pensione. Non finiremo mai di ringraziare la Lucia che fino all'anno scorso regalava più di 1500 ore l'anno come volontaria. Praticamente uno che lavora ne fa 1600 per capirci. Quindi con 5.500 ore, con 70 volontari sui complessi di Fondazione Sant'Andrea, Ospedale Locatelli e CRA, che fa parte dell'ospedale Locatelli, l'Avo svolge questo servizio. Abbiamo un grande bisogno di volontari anche a mezzogiorno, perché è la fascia più scoperta, e quindi ci proporremo, ripeto, domenica 23 la mattina in Piazza Uccelli. E al pomeriggio al Sant'Andrea, dopo le 15, faremo l'estrazione dei 171 premi. E poi quelli che saranno in sala e non avranno avuto nessun premio, tireremo sui biglietti e faremo un'estrazione di consolazione. Perché ci teniamo a questa partecipazione. Oltre a ringraziare questi 80 sostenitori, ci teniamo molto a ringraziare la Fondazione Sant'Andrea, Onlus, che ci ospita come sede e che ci ha sostenuti anche nelle spese prime. Quindi abbiamo 4.000 biglietti, ne regaliamo 10 ad ogni sostenitore, quindi ne regaliamo 800, quegli altri 3.200 vorremmo venderli tutti a 1 euro, e attraverso questi garantiremo un corso di alto livello e saremo indipendenti dalle amministrazioni che hanno difficoltà a sostenerci. Devo anche però dire che il credito bergamasco, come altri anni, ci ha sostenuto, l'unica tra tutte le banche del territorio che abbiamo sentito, molte non ci hanno neanche proprio detto niente, quindi grazie a chi ci sostiene, a prescindere dell'importo. La riforma costituzionale è al centro della serata in programma domani, a Gromo, presso la Sala Filisetti. Interverranno il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Sorte. L'appuntamento avrà inizio alle ore 20.45. E ora continuiamo con una nuova puntata della rubrica Quala Zampa a cura del veterinario Stefano Gusmini. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Quala Zampa. Parliamo di coniglie e in particolare di una malattia, di una parassitose che colpisce i conigli, in particolare colpisce le orecchie e si chiama proprio rogna. È un acaro, la rogna del coniglio è proprio sostenuta da un acaro e questo vive prevalentemente nelle orecchie, cioè la manifestazione principale, la potete vedere nelle orecchie, colpisce sia i conigli di allevamento, quindi quelli che possono essere tenuti nella stalla proprio per la produzione di carne, ma anche i coniglietti domestici che vivono in casa come animaletto da compagnia. Quindi è una cosa che può interessare sia a chi si diletta nell'allevamento che chi tiene questo piccolo animale in casa. I sintomi principali li vedete osservando il padiglione auricolare, quindi l'interno dell'orecchio proprio del coniglio vedete delle piccole crosticine, dell'essudato, quindi del liquido o addirittura del pus di colore dal giallo al brunastro, fino alla formazione proprio di scaglie secche. Allora questo parassita vive sulla superficie della pelle irritandola, quindi facendo produrre proprio all'orecchio delle secrezioni in cui lui può riprodursi tranquillamente e questo proprio causerà fastidio al coniglio. Può addirittura riempirsi l'orecchio di queste croste, di questo essudato dovuto alla rogna, fino a vedere proprio le orecchie cadenti che vengono verso il basso, al posto di essere dirette verso l'alto. Diciamo che i sintomi più, i principali, quelli che potete avvistare al primo sintomo di malattia è proprio il fatto che il coniglio tende a grattarsi e a essere infastidito e a sbattere e a scuotere la testa. Ci sono altre localizzazioni di queste lesioni che sono il naso, la punta del naso con delle crosticine oppure in mezzo alle dita, queste sono meno frequenti, in mezzo alle dita del coniglio potete vedere comunque delle crosticine, un'irritazione delle piaghe e queste potrebbero essere dovute alla rogna. È abbastanza curabile in modo facile e se presa in tempo, quindi se presa negli stadi precoci, esistono sia dei prodotti che possono essere dati per iniezioni, altri prodotti spot on, quindi sono i prodotti che vengono messi come le goccine dietro le scapole, oppure ci sono anche dei prodotti per bocca. Dovete rivolgervi al vostro veterinario di fiducia perché questi prodotti sono farmaci per cui vengono dati solo dietro ricetta medica o somministrati direttamente dal veterinario. Per cui se possedete dei coniglietti, controllate bene le loro orecchie frequentemente e se vedete tracce di qualche crosticina, irritazione o qualche piaga, potete sospettare che sia rogna, quindi rivolgetevi al veterinario che facilmente risolverà questo problema. Per questa sera è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di Quala Zampa. Arrivederci! Ci fermiamo per una pausa tra poco. Ci fermiamo per un nuovo appuntamento di Quala Zampa. Rieccoci in onda con la terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Riprendiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.40 trasmetteremo la rubrica di pareri d'opinione locali del sasso nello stagno. Questa settimana Tony Tranquillo è stato a Gazzaniga per occuparsi dell'acquisto delle motociclette e quindi ho dei motorini ai figli. Alle 21.20 trasmetteremo Antena 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 tempi supplementari e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche alle ore 21.30 sul canale al numero 218, sul quale alle 22.10 trasmetteremo Target e il servizio ci porterà a Cruzone per l'accoglienza ai 19 bimbi bielorussi. Sul canale sportivo numero 628 alle 20.30 trasmetteremo una partita di calcio in replica, Albino Gandino Nibbionogiono, mentre alle 22.10 uno speciale dedicato alla gara di Schirol soverebossico. Dal Manacco, mercoledì 5 ottobre, il sole sorge alle 7.20 e tramonta alle 18.57. Il culmine è alle ore 13.09, la durata del giorno è di 11.37. La luna sorge alle 11.25 e tramonta alle 21.29, la fase lunare, la luna è crescente ed è visibile al 27%. La chiesa ricorda San Placido Martire. Ecco anche le previsioni del tempo, al mattino il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, poi graduale ingresso di nubi medio-basse da est che porteranno a una copertura via via più diffusa e dal pomeriggio saranno possibili isolati rovesci sulla fascia orobico prealpine. Le temperature in diminuzione dal pomeriggio. Siamo giunti al termine di questa edizione, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.